Allora, segretario, innanzitutto sulla partecipazione, diciamo un po' anzi, sulle 4.000 persone, vi aspettavate di più? Siete soddisfatti? No, siamo, posso dire, ambiamente soddisfatti di questa prima iniziativa che noi crediamo che sia veramente la prima di un percorso che ci deve portare, noi sperando in tempi quanto più brevi possibili, però sappiamo che la battaglia sarà una battaglia complicata, però le ragioni sono sacrosante, sono le ragioni dei lavoratori della città, per cui le istituzioni preposte, in questo caso il governo in primis, debba sentire questa piazza e questi lavoratori, in modo che quanto scritto e detto sia fatto rapidamente. Vi aspettavate qualche presenza istituzionale in più oppure siete... Noi ringraziamo i comuni, a partito da quello di Tardo, ma anche gli altri della provincia che hanno voluto condividere con noi questa iniziativa. Non dico che gli assenti hanno sempre torto, ci auguriamo che questa sensibilizzazione sia sempre più alta, perché non ci sono in ballo interessi di nessuno, ci sono interessi dei lavoratori, dei cittadini che credo debbano riguardare tutti. C'è qualche delegazione da altre città? Beh, purtroppo c'era, però non abbiamo, evidentemente si sono persi, però abbiamo una delegazione anche di nuovi libri che è presente, ma che non vediamo, come stai non vedo, però c'è, c'è. Come invece, come sindaci di altre città, ha confermato San Giorgio, Brottaro? Ho visto che ci sono un po' di confalone, ci sono almeno 7-8 comuni che hanno avvenuto. Grazie.